Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, oggi è un po' meno bello farlo però dobbiamo, siamo qui per quello Mi raccomando prima di iniziare come al solito iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace e condividete il video Seguitemi sui social, trovate tutto nella descrizione Treplice fischio allo stadio ricamento di Brescia, i padroni di casa conquistano la vetta della classifica Battendo Lascoli per 2 a 0, una vittoria a mio avviso sicuramente meritata Soprattutto nel secondo tempo quando Lascoli non è rientrato come doveva rientrare un primo tempo Che aveva lasciato un po' storcere il naso, qualche decisione presa in campo che non mi era proprio stata andata a genio Però ecco c'era fiducia per un secondo tempo che potesse essere più positivo Per un secondo tempo in cui Lascoli potesse comunque avere una sorta di reazione E' vero che è arrivato il gol di Palacio oggi, uomo partita Dopo poco, però ecco sappiamo che in un campionato come la Serie B Un solo gol di scarto spesso neanche pesa ai fini del risultato Lo abbiamo vissuto proprio sulla nostra pelle nella partita d'andata Proprio contro il Brescia, vincevamo 2 a 0, abbiamo perso 3 a 2 E poi è vero come con l'Alessandria questa volta la superiorità della Rosa Forse l'ha fatta sentire più il Brescia Soprattutto con i cambi Ecco sui cambi magari ci sarebbe da aprire un capitolo Sarei curioso di sapere la vostra perché a me sinceramente quei cambi all'inizio Ricci, Caligara, ad inizio secondo tempo non li ho capiti Togliere 2 come Buchel e Collocolo che a me comunque stavano piacendo Lo vedremo tra un po' nei voti Non lo so, non è stata una cosa che mi è stata proprio a genio Vorrei sapere appunto la vostra opinione in merito Sono più che sicuro che alla base ci sia qualche soluzione tecnica, tattica Però ecco secondo me potevamo fare meglio La sfortuna poi che comunque Ricci non è ancora nel suo momento di forma migliore E Caligara penso che abbia fatto la peggior partita della stagione Cioè lo vedremo tra poco Non mi è piaciuto veramente per niente E poi per il resto è arrivato il secondo gol Grande errore di Salvi anche lì che c'è una grandissima responsabilità E la partita si è chiusa di fatto Poi Lascoli nel finale ha staccato la spina Magari già cercando di concentrarsi e risparmiare qualche energia Per la partita di domenica contro il Crotone Ci sta, siamo tornati a vincere in casa Ci può stare che torniamo a perdere in trasferta Magari è il momento dello switch Si tornerà a vincere sempre in casa e a perdere in trasferta Chi lo sa, oggi la partita non era facile Affrontavamo un avversario complicato Con grandi obiettivi Dopo il pareggio con il Frosinone Sapevamo che oggi sarebbero scesi in campo con il sangue agli occhi Pronti per la partita della vita Anche perché comunque i risultati delle ultime giornate Gli erano abbastanza favorevoli E quindi dovevano vincere assolutamente Forse noi abbiamo sbagliato un po' Ad appellarci al Potrebbe andare bene e riportare anche un punto Di solito l'ho letto molto Di solito quando si ragiona così Poi si resta bocca asciutta Come di fatto oggi è andata Ma andiamo a vedere nel dettaglio Quelli che sono i voti di oggi Ho provato questa nuova grafica Fatemi sapere se vi piace Partendo da le ali Ho dato 5 Ho dato 5 alle ali Ci può stare Non è stato programato tantissimo in causa Purtroppo sui gol Ha avuto forse un po' più di responsabilità Sul secondo Sul primo Addirittura era riuscito a toccare il pallone Entrambi da distanza piuttosto ravvicinata Per un portiere non è mai facile Parare quelle conclusioni Però ecco Al fantacalcio avrebbe preso un voto sicuramente più basso Ci sta dare un'insufficienza Andiamo avanti con Salvi 4 Come ho detto è sicuramente il peggiore in campo di oggi Ha grosse responsabilità Soprattutto sul secondo gol Dove si perde di fatto la marcatura di Palasio Nel primo tempo tante imbarcate sono arrivate proprio dalla sua fascia Partita assolutamente da archiviare Dopo una prestazione ottimale in quel di Benevento Oggi magari ci aspettavamo tanto da lui Ci può stare Partita come ho detto Che va accantonata E pensare subito alla prossima Botteghin 7 C'è poco da dire Il migliore in campo Oggi l'assenza di Bellucci si è fatta sentire tanto E lo vediamo infatti nel voto di 40 Non è ancora in piena fiducia Con i propri mezzi Con la propria posizione in campo Sappiamo che è difficile per lui Anche perché l'ambiente comunque non gli dà troppa fiducia E il 5 mi sembrava il voto più giusto Non ha fatto una partita diciamo così tremenda Perché comunque non è che Agraos è responsabilità su gol Tranne il rimpallo ma non poteva farci nulla Ecco non è stata una partita eccezionale 5 e mezzo per Falasco Diciamo quasi il meno peggio Dopo Botteghin nella difesa Ovviamente il risultato va ad avere una certa condizione Sul risultato Va a condizionare appunto il suo voto Con l'oculo 6 e mezzo Come dicevo a me stava piacendo Nel primo tempo era quasi il migliore Poi è stato sostituito Però ecco mi sentivo comunque di premiarlo Per il buon primo tempo che ha fatto Buca il 6 Stesso discorso del compagno di reparto Non mi stava dispiacendo Magari non era la sua miglior partita Però ecco senza lode Senza infamia Si stava portando a casa la pagnotta Poi sarebbe da capire Alla base di questa sostituzione Cosa c'è stato Andiamo avanti con Saric 6 e mezzo Partita di sacrificio Corsa Forse voto un po' troppo generoso Però si sta riprendendo Dopo la brutta partita Giocata contro il Como Quell'espulsione Abbiamo visto comunque buone partite E mi andava di premiarlo Ecco era più per premiarlo Che per una vera prestazione Poi c'è Maestro 5 e mezzo Un giocatore che a me piace tanto Lì in mezzo può essere veramente Una spina del fianco Ho già provato un po' la conclusione Non è stato tanto fortunato Anche in questo caso ovviamente Il risultato finale condiziona un po' il voto Ciaciu Ciaciu oggi non l'ho visto tanto Non l'ho visto tanto bene Partita complicata soprattutto per lui Sappiamo che ha grandissime qualità Le ha già mostrate E sappiamo che può fare meglio Oggi purtroppo Non posso Vorrei Ma non posso dargli assolutamente la sufficienza Come non posso darla a Bidaoui 5 e mezzo Partita un po' in difficoltà Da parte del calciatore bianconero Ha avuto qualche lampo importante Sicuramente ha avuto molta meno libertà Rispetto alla partita con l'Alessandria Qualche conclusione che non è andata proprio a genio Poteva essere calibrata meglio la precisione Piuttosto che la potenza Anche qui il risultato un po' va a condizionare il voto 5 e mezzo ci può stare Capitolo panchina Come vedete Ricci L'ho già detto Non riesce a trovare la propria dimensione Non potevo che Confermargli il voto Ormai Do 5 ad ogni sua partita Sperando Ecco un po' come quel 5 Che ti davano a scuola I professori Sperando che possa essere Di incoraggiamento Calicata 4 La peggior partita Giocata finora Forse il peggiore in campo Perché comunque subentrato nel secondo tempo Da lui ci si aspettava tanto Magari è stato messo proprio per Dare un segnale alla squadra Ha sbagliato 3 palloni Che praticamente ha toccato E il voto oggi ragazzi Non si può dare di più Non so cosa ne pensate Ma penso che non si possa veramente fare di più Con tutto il bene che posso volere Al giocatore Dionisi 5 e mezzo Finalmente rivediamo il capitano Quello che tra i subentrati Ha provato a fare di più Insieme a Paganini Esordio molto amaro per lui Capitano È un po' In difficoltà Ovviamente non è che il singolo Ti può risolvere la partita Ci può stare 5 e mezzo Magari con il pareggio Il 6 Ci stava tutto Stesso discorso che vale Per Paganini Qualche pallone giocato Non è stato chiamato molto Al centro del gioco Ma ha giocato poco Quindi Non mi aspettavo neanche Grandissime cose da lui Già vederlo in campo È stato comunque Un buon risultato Vedere che comunque Sembra aver recuperato Una certa condizione E penso che da qui A fine campionato Piano piano Potrà trovare Assolutamente la sua dimensione Chiudiamo con Iliev Il vulgaro Non convince Non convince Dopo qualche sprazio Di buona partita Nelle prestazioni scorse Oggi Non mi è piaciuto Anche un fallo Cartellino giallo Quindi Va ulteriormente Appunto A cambiare Il suo voto Ci può stare Ci può stare Dunque questi I voti di oggi Ve li faccio rivedere al volo Leali 5 Salvi 4 Bottega in 7 45 Falasco 5 e mezzo Collocolo 6 e mezzo Buchel 6 Saric 6 e mezzo Maestro 5 e mezzo Cesu 5 Bidawi 5 e mezzo Dalla panchina Ricci 5 Caligara 4 Dionisi 5 e mezzo Iliev 5 Paganini 5 e mezzo Questa era la mia analisi E le mie pagelle Di Brescia Ascoli Fatemi sapere nei commenti Se siete d'accordo Mi raccomando Iscrivetevi al canale Se ancora non l'avete fatto Seguitemi su tutti i miei social Li trovate in descrizione È tutto Completamente gratuito Ci sentiamo Domenica Per Tornare a parlare di Ascoli Ovviamente ci sentiamo Già da questa sera Con il video Per Atletico Madrid Manchester United Grazie a tutti E sempre forza picchio Nella sconfitta E nella vittoria Perché ricordate Come ho scritto nel titolo Ci siamo ancora